Presentato quindi finalmente Libertà e Democrazia, Aldo Presutti, un taglio del nastro credo abbastanza importante, quindi da adesso si fa sul serio? Da adesso si fa sul serio e ovviamente aspetto molte addizioni perché torno a ripetere, io non ho la bacchetta magica, da solo non si va da nessuna parte, ci vuole una squadra forte, ragione per cui invito tutti i solani, tutti, di iscriversi e tutti quelli che hanno voglia di partecipare per quest'isola, di ridare di nuovo la certezza per un futuro, di collaborare e di venire, dopo che andremo anche a comunicare quando sarà la prima assemblea, per formare dei gruppi di lavoro e per poter partire veramente alla grande per vedere quest'isola rinascere e cambiare proprio registro per un futuro sicuro e certo per tutti quanti. A giudicare dalle presenze e anche dagli interventi è andata bene, sono stati rappresentati tutti gli argomenti, tutte le problematicità che il nostro territorio, la nostra isola ormai vive da tempo? Sicuramente sono venute molte persone, quella mi fa molto piacere, però ho avuto anche moltissime persone che me l'hanno detto apertamente, e questo mi dispiace molto ma questo sarà una delle lotte che noi faremo, che per questione di non potersi esporre non sono venuti. E questo è uno dei segnali gravi dell'isola di Ischia che queste amministrazioni fanno un lavoro che deve essere combattuto subito, difatti sarà una delle primissime cose che andremo a fare, che questo modo di poter ricattare, minacciare o anche altro, queste cose finiranno. E questo mi occupo, io farò da garante su questo. Diciamo che i temi fondamentali, sanità, turismo, commercio, sono le cose, qualcuno ci ha suggerito anche la giustizia, insomma c'è molto da lavorare. Io credo quasi che siamo all'anno zero perché io non credo che abbiamo oggi qualche cosa che funziona sull'isola di Ischia, ragione per cui c'è molto da fare, iniziamo a lavorare, partiamo il prima possibile, aderite tutti quanti, così io faccio la prima assemblea, carriamo i gruppi e poi partiamo e adesso abbiamo l'inverno davanti, abbiamo tempo e possiamo fare molto e abbiamo già tante soluzioni nel cassetto, le tiriamo fuori e le mettiamo, come si vuol dire, dalle parole, passiamo ai fatti, ma abbiamo le soluzioni pronte. Grazie.